Ciao a tutti archetti, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi riguardo le ricompense esclusive che otterranno i giocatori su GTA V online questa settimana che hanno prenotato la versione Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video ai vostri amici e sui vostri social, poi a lasciare un bel pollicione in su e di seguirmi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione. Iniziamo subito! Tutti i giocatori che hanno prenotato la versione Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2 questa settimana su GTA V online otterranno queste ricompense esclusive. La livrea dolla dolla per il Buckingham Akula, la maglietta logo Rockstar Whiteout, poi lo sconto del 40% sulla Deluxo, lo sconto del 50% sulla Stromberg, poi lo sconto del 60% sulla Avenger e lo sconto del 50% sulle modifiche della Avenger. Tutte queste ricompense esclusive saranno valide questa settimana, termineranno la mattina di martedì 16 ottobre così come bonus e sconti dell'evento della settimana. Vi ricordo che tramite l'evento di questa settimana di GTA V online potrete guadagnare un sacco di soldi. Perciò se non avete ancora visto il video che ho caricato riguardo all'evento di questa settimana di GTA V online vi invito subito ad andarlo a guardare. Lascerò i link di quel video nella descrizione di questo video. Qui in diretto ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orkoverde tutto noi ci vediamo, un prossimo video. Bella!